Oggi si insederà il nuovo consiglio d'amministrazione della casa di riposo di Adria. Quali sono i nomi dei componenti che al momento sono noti? Simone Mori, Mauro Colombo, Graziella Braghin e Daniera Pasquali. Graziella Braghin è una delle due persone che erano state nominate dai familiari degli ospiti in un'assemblea fatta circa un mese fa. Queste quattro persone quindi sono state tutte nominate da me e le altre tre sono espressione della maggioranza. Manca ancora però il quinto componente, quello che dovrebbe essere suggerito dalla minoranza. Come procede la situazione in questo ambito? Allora questa mattina che praticamente poco prima dell'insediamento, qualche ora prima, sono arrivate in realtà tre proposte diverse. Una da Fratelli d'Italia e Bobo Sindaco che è Claudio Rossi, conosciuto come Claudio Rossi, non è proprio il suo vero nome, adesso non lo ricordo a memoria. Poi la Lega ha presentato Giorgio D'Angelo, ex vice sindaco e invece dunque PD e lista Cavallari 2.0 hanno presentato il nome, lo cerco perché non lo ricordo a memoria, della dottoressa Gilda Menini che è stata un amministrativo di Ulss 19 e l'Ulss di Chioggia. È una situazione di disaccordo della minoranza che lascia un po' di amaro in bocca potremmo dire. Sì perché allora la minoranza sapeva benissimo della scadenza naturale del 18 gennaio 2020 del precedente CDA. Come sindaco avevo ricordato a novembre di questa scadenza e mi auguravo che per il bene comune ci fosse la volontà di indicare una persona sola. Ora noi dovremo procedere in base alla delibera 33 del 27 ottobre 2018, guardare i criteri e quindi andare a usare quella delibera come filtro per indicare poi una di queste tre persone. Quindi lasciano l'onere della decisione al sindaco in base alla delibera del Consiglio Comunale. Quali sono le linee programmatiche affidate dal sindaco al nuovo CDA? Allora prima di tutto capire lo stato dell'arte economico e dei lavori. Ricordiamo che nella nostra struttura ci sono dei lavori per stralci per ottenere il certificato prevenzione incendi e quindi quegli lavori sono obbligatori. L'altra cosa è la ristrutturazione perché comunque la nostra struttura ha i suoi anni e quindi ha bisogno anche per mettersi rispetto al mercato delle case di riposo perché è brutto magari come termine ma esiste, essere competitiva. Sicuramente iniziare un percorso insieme ai lavoratori e ai familiari, ai lavoratori per restituire tutte quelle indennità dovute per legge quindi andare a vedere la possibilità di restituire economicamente questo tipo di indennità con i familiari degli ospiti, con gli ospiti andare a ricostruire il regolamento del comitato familiari, ricostituirlo e da lì la carta dei servizi dove all'interno della quale ci sono piccole grandi cose che fanno la differenza per i nostri ospiti. Tutte le richieste fatte dalla minoranza in particolar modo e quelle che riguardano la calendarizzazione di questi incontri che vi dicevo ospiti familiari e la relazione dell'assessore sociale Sandra Moda saranno sicuramente prese in carico dal nuovo CDA. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.